25 appuntamenti per la 49esima stagione concertistica dell'istituzione sinfonica abruzzese presentata oggi in comune. Un cartellone ricco e vario con molte proposte del repertorio sinfonico di Rarro Ascolto, assieme ad appuntamenti dedicate ai generi più diversi e programmi pensati per piccoli e grandi, sul palco con i professori dell'ISA, direttore e solisti del prestigio internazionale, ma anche giovani interpreti di talento. I concerti si terranno sempre il sabato pomeriggio alle 18 al ridotto del teatro, dal 21 ottobre sino ad aprile. Il direttore musicale sarà il maestro Jacopo Sipari di Pescassero, gli appuntamenti saranno notevoli, il 6 aprile come ogni anno si renderà omaggio alle vittime del sisma, poi ci sono i progetti sinfonici come i sogni sono desideri in omaggio ai cent'anni della Disney e gli incanti di Partenope con i classici della canzone napoletana, ma sono soltanto alcuni esempi di un programma davvero di alto valore. Questa stagione, la 49esima stagione dell'istituzione sinfonica abruzzese, sarà una stagione piena di novità, piena di collaborazioni, generi musicali diversi. Apriremo la nostra stagione con il concerto di Rachmaninoff numero 2 per pianoforte, suonato dal maestro albanese, e la nona sinfonia di Vorjak dal Nuovo Mondo. Tutta la produzione sarà diretta dal maestro Jacopo Sipari da Pescassero, lì che sarà il nostro nuovo direttore musicale. Ecco, tantissimi concerti, tante collaborazioni, tante piazze, il ridotto del teatro comunale è la vostra base, ma guardate con attenzione ovviamente al comunale vicino, che anche voi non vedete l'ora che riapre per avere più spazio a disposizione. Speriamo che presto si apra il teatro comunale per dare un altro punto importante alla città e alla nostra cittadinanza. L'istituzione sinfonica abruzzese è un'istituzione, come lo dice la parola, abruzzese, per cui girerà per più di 29 comuni e piazze e 10 regioni d'Italia. All'Aquila faremo 25 spettacoli, ma in totale faremo quasi 90 concerti quest'anno.